Nella zona del quartiere Gianicolense a Roma un gruppo di suore del convento vicino a Villa Panfili è stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 15 ottobre. Le suore alla guida di un furgone Ducato hanno investito una donna mentre attraversava sulle strisce pedonali nell'incrocio tra Viale 420 e Piazza Francesco Cucchi. Dopo l'incidente invece di prestare soccorso le religiose avrebbero rimproverato la vittima e minimizzato le sue ferite dicendole che non si era fatta niente. La vittima è stata soccorsa da passanti che hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112. Gli operatori sanitari l'hanno trasportata all'ospedale San Camillo a causa di un dolore alla gamba. La polizia locale di Roma Capitale sta conducendo indagini sull'incidente basate sulla testimonianza della vittima e di alcuni passanti che hanno assistito alla scena al fine di accertare le circostanze esatte dell'incidente.